Questo è uno sport city, non partiva più. Ovviamente pure premendo il freno lui non partiva più. Vedete? Un'opera moto non partiva. Non si accendeva la spia, questa qui generica. Il scooter è dotato di una pila a litio perché tanto fermo l'inverno al momento di riaccendere in primavera dava sempre problemi con la batteria. Per risolvere il problema della mancata accensione non si era capito immediatamente che dipendeva da questi perché si accendeva la spia della il freno. Il freno si accendeva e quindi lo stop. Quindi non è stata considerata questa eventualità che fossero la colpa fosse di questi due micro interruttori. Invece erano proprio loro. Stato visto anche quello lì che è un relais, ma non era quello. E' stata vista anche questa per maggior sicurezza della centralina di carica. Non è neanche questa. Sono stati puliti questi connettori. Sono stati puliti bene. Poi ho messo un pochino di grasso per tenerli un po' lontani dall'umidità. Anche questo è stato controllato. Però niente di tutto questo qui. Abbiamo dovuto sostituire questo micro interruttore e adesso praticamente come potete ben vedere parte immediatamente. Ed era proprio quello. Si spenta la luce di segnalazione e adesso va ottimamente.